Montano la tensione, la rabbia, la preoccupazione tra i lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela. Secondo giorno di blocchi in via Mare ed in via Generale Cascino. Gli operai hanno trascorso la notte dal ghiaccio. I licenziamenti pervenuti ai dipendenti dell'elettroclima rappresentano un pugno allo stomaco. Situazione parallela o quasi vivono quelli della nuova X-Gamma e della SMIM in pianti. L'indotto, l'abbiamo detto in altre occasioni, è una polveriera pronta ad esplodere. Una volta le sorprese arrivavano nel luogo di Pasqua, adesso le abbiamo trovato anche a Natale. Niente, noi aspettiamo risposte e vorrei lanciare un messaggio anche ai commercianti, che anche loro secondo me stanno attraversando un brutto periodo. Qua è una catena, non lavoriamo noi, non lavorano i commercianti, si ferma tutto. Perché non lavorando voi non spendete, dunque il commerciante non guadagna. Eh sì, hai detto bene. Come si fa a vivere in queste condizioni, considerato che purtroppo, come sottolineavamo, sotto l'albero di Natale avete trovato i licenziamenti? Un questione è un dramma, mica ormai è un problema, è diventato un dramma, perché ormai il licenziamento non è più un problema, mica c'è un lavoro che vada a lavorare giù da un'altra parte adesso, è un dramma questo. La riconversione mai partita della raffineria, così come sono scritto il 6 novembre del 2014, al Ministero dello Sviluppo Economico, ha di fatto fermato lo stabilimento. I lavoratori sono sull'astrico. Oltre il lavoro e il dramma che stiamo passando, stiamo passando anche delle difficoltà familiari. Soprattutto? Soprattutto familiari, perché non portandone da casa, abbiamo discussione, diciamo la famiglia si può anche rompere. E questo grazie ai politici e grazie all'Ene che sta facendo un giro di un gioco troppo sporco. Non soltanto elettroclima, non soltanto un'ex gamma, ci sono anche tanti altri lavoratori che purtroppo stanno vivendo una situazione difficile, ci riferiamo anche ai lavoratori della Sbim. Secondo te come bisogna fronteggiare quella che è divenuta una vera e propria emergenza? Perché noi ci eravamo visti l'anno scorso di questi tempi e abbiamo parlato sempre dello stesso problema. Il 16 di dicembre sono stato pure io ad Agoradavoi, quindi è passato un anno da quel incontro e mi sembra che è cambiato poco. Io penso che ormai è ora di mescarsi tutti assieme e di fare una vera lotta, perché ormai siamo arrivati, come si suol dire, volgarmente alla frutta, perché ormai non c'è più spiraglio e le parole ormai sono diventate quelle che sono diventate. E' meglio di metterci insieme, di fronteggiare questo problema che ormai è diventato un problema non serio di più. Ma i blocchi che voi avete istituito non consentono ai lavoratori del diretto di entrare alla raffineria? No, completamente, non esiste. Non esiste? No, no, completamente.